buongiorno a tutti mi parlo da trento mi chiamo trantilidia allora un gatto come si vede di 19 anni ha superato il range dell'età con un'artrite non indifferente allora provai vari prodotti di farmacia senza aver nessun tipo di risultato e spiego anche perché io non posso assolutamente dare antidolorifici perché il gatto ha un'insufficienza renale guardando un giorno trovai questo prodotto faccio l'ennesima prova bene allora il gatto era sofferente tremava e era un gatto quasi d'autanasia diciamo cosa che non vorrei mai con questo prodotto vi assicuro salta dal mobile del soggiorno salta dalla tavola e sì perché viene anche sulla tavola e l'embosinare il cibo e il pelo come vedete non sembra assolutamente un gatto di 19 anni Jimmy tesoro fai ciao a tutti ciao ciao di amore mio comunque in ogni caso mi sono trovata molto ma molto bene ma veramente bene continuo a comprare il prodotto 30 giorni 10 giorni di stacco poi altri 30 giorni perché il gatto ha avuto dei riscontri non indifferenti